Pescare dalla storia per leggere il presente, questo il tentativo di Nanni Balestrini attraverso la mostra personale intitolata La tempesta perfetta e accolta nella sala bianca del macro a Vianizza. L'artista e scrittore milanese, in passato membro dei poeti novissimi del gruppo 63, espone a Roma una vasta quantità di lavori legati tra loro a partire dalla principale fonte di ispirazione perché Balestrini ha scelto di prendere spunto da un quadro noto come La tempesta di Giorgione per dare vita ad un allestimento che mira a confrontarsi con la situazione contemporanea. Mi interessava anche molto quello che oggi può voler dire, diciamo, non tanto il contenuto di questo quadro ma la sensibilità che questo quadro può rivelare. Il declino sociale e quello culturale, la crisi economica e l'immobilismo mentale alterato solo dall'instabilità psicologica dell'uomo. L'intento di Balestrini è serio e profondo, l'analisi della società odierna è spietata. Noi oggi subiamo un'altra perdita, un'altra cacciata che è quella che il mercato, l'economia, il denaro che ci sommerge procura nella nostra vita sociale, quotidiana, umana. All'interno c'è lo sguardo lucido di Giorgione, ridefinito tramite soluzioni tecniche di vario tipo, con patchwork, sovrascritture e scomposizioni. Mi interessato a mettere in rilievo i particolari che l'hanno composto e le combinazioni di questi particolari, per cui ho giocato sempre facendo questo componendo, scomponendo e ricomponendo. La tempesta perfetta è quella che si è originata per un incastro inesorabile di fattori. Oggi ci siamo dentro e Balestrini la rappresenta a modo suo viaggiando in parallelo con Giorgione.